Operazione verità dell'assessore al bilancio Anna Rita Tucci e del dirigente Carlo Di Cesare sulla delibera della discordia che determina le tariffe Tari 2018. Provano a fare chiarezza sull'atto che contempla anche le alicote e detrazioni Imo e Tasi e contestualmente prevede l'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, il PEF redatto dall'AMIU in cui vengono indicati i costi relativi al servizio che hanno inevitabilmente ripercussioni sulle tariffe. Il primo voto dell'altro giorno in aula non è un indirizzo del Consiglio che vi dice di rideterminare a ribasso la Tari? Ma noi abbiamo chiesto di capire e sapere in che termini noi dobbiamo andare a modificare la nostra proposta. Se il PEF che non è condivisibile deve essere modificato quel PEF e noi in base poi agli importi riportati per quanto riguarda sempre i costi parlo possiamo andare a rivedere la proposta. Perché se questo atto non viene votato entro il 31 marzo ci sarà un aumento del 10%? Allora ci sarà un aumento del 10% perché i costi, faccio un raffronto rispetto al 2016 con la chiusura della discarica frisoli eccetera, sono aumentati di circa 2 milioni. Quindi siamo passati dai 28 milioni relativi all'anno 2016, già l'anno scorso nel 2017 e quest'anno riconfermati a circa 30 milioni di euro. Non riusciamo a coprire l'intere di 30 milioni ma restano fuori un 400 e rotti mila euro che purtroppo devono essere spalmati sui contribuenti. È evidente che non approvare la delibera oggi significa per legge prorogare le tariffe già applicate nel 2017, quindi le tariffe aumentate non quelle decurtate appunto dei 2 milioni, significa aumentare appunto quelle tariffe. Se dovesse essere approvata quest'anno questa proposta di delibera l'aumento del piano economico finanziario è di 445 mila euro per il semplice fatto che si conferiscono i rifiuti a Taranto già da 8-9 mesi, quindi il maggior costo è un costo oggettivo che è tangibile, valutabile. Quindi questo maggior costo di 445 mila euro determinerà, qualora venisse approvata questa proposta, un aumento della tariff intorno al 2-3%, quindi parliamo di qualche euro sulla cartella tariff. Se il servizio ambiente economico hanno redatto questo piano economico finanziario per legge, ditemi voi su che presupposto tecnico oggi andiamo a modificare questo piano. Ad oggi non ho nessun documento che giustifichi una modifica della proposta di delibera. Chi lo dovrebbe stilare questo documento? Chi dovrebbe proporre una modifica? Se non è nessuno, perché il PF se Amio è convinta di aver redatto un PF secondo legge, ditemi voi perché dovrebbe modificarlo. Poi il segretario generale e l'amministrazione non so cosa vorranno valutare, siccome sono l'istruttore di quella proposta di delibera oggi non ci sono le condizioni tecniche per modificarla. Grazie a tutti.